Buongiorno ammazzolito Ciao papà Auguri per il tuo nomastica Grazie Com'è tutto bene? Tutto a posto sono a casa Ah A casa qualcosa sento male no? No no oggi prendiamo un giorno di riposo ma ci prendiamo poche cose con me adesso prendiamo il riposo magari Ma se sapete di prendere pace le persone c'è anche un pensiero per te che stagio? Non si trova già No tu n'è a casa E' a casa C'è buona quando sto sapendo A casa Poi un po' canale Ciao 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 Ciao